Sono lì 21 su Radio 105 Ciao amici, buonasera, buonasera e benvenuti a 105 Night Express Sono la vostra Rebecca Staffelli In regia, attenzione, fate molta attenzione e anche molto silenzio perché sta già dormendo Il nostro Little Tony Sono svegliissimo Ma cosa? Stavi dormendo praticamente? No, stavo cercando di capire l'audio che è L'audio? Non ti piace l'audio? No, è che ho un orecchio mezzo tappato e quindi Ah, oggi questo è il problema della giornata Ah, potresti gridare, va bene Tony Nel caso ti faccio abbassare il microfono dalla regia di Monte Carlo Non so dimmi tu quanto dobbiamo fare No, chiamiamo Massimiliano, scusate, terzo piano Ah, chiamiamo Massimiliano che ci aiuta sempre Allora, salutiamo anche Massimiliano ma anche la nostra Claudia Che è finalmente in presenza qui con noi al centralino Salutiamo anche la nostra Francesca in redazione Amici, saluto tutti i miei nighters all'ascolto Con il mio solito abbraccio virtuale, virtualissimo Che però arriva anche a tutti coloro che ci seguono dal canale 66 del digitale terrestre 15